Diciamo che per questa riapertura noi ci siamo. Adesso aspettiamo un po' di lavoro. È chiaro che, secondo il mio giudizio, si lavora con tutte le persone all'interno della zona di Grotone. Non pensiamo che possano venire gentili fuori per il momento perché è tutto bloccato. Dobbiamo avere fiducia delle persone che i Grotone e ritornano, diciamo. I Grotonesi l'importante è che mantengono la distanza e camminano ancora un pochettino con la mascherina perché devono camminare. I problemi si risolvono, penso io, no? La pizza è a benetici pensieri, specialmente la pizza di Giancarlo. No, per essere un pochettino addomani, scusa di me, però ti spensierò un po'. Noi abbiamo avuto parecchie chiamate di apertura e siamo qua ancora a soddisfare la gentile clientela dei paesi che mi vengono a ritrovare molto e altre persone, anche di Grotone. Sono contenti di avere la mia pizza ancora in circolazione. Grazie, 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 Grotone ok!